Mestre e 21 morti. Due sono bambini. E 15 feriti. Di cui 5 gravi. Il bilancio dell'incidente Mestre. Il Pullman. Precipitato dal cavalcavia. Era stato noleggiato da 40 turisti. Molti stranieri. Che si trovavano nel camping U di Marghera. L'autobus stava percorrendo il cavalcavia del ponte che porta da Mestre a Marghera e o l'autostrada. A4 quando per cause ancora da accertare si è schiantato. Poco prima delle 20. Effettuando un volo di circa 15 metri. Nel primo tratto in discesa L'autobus ha sfondato il parapetto ed è caduto tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre. Poi ha preso fuoco. Il veicolo. Alimentato a batteria ibrida metano diesel. Potrebbe aver preso fuoco dopo aver toccato i cavi elettrici. Il sindaco Luigi Brugnaro una tragedia enorme. L'autobus coinvolto nell'incidente stava andando da Venezia a Marghera. E' andato completamente fuori strada. E' volato giù dal ponte. Siamo in lutto. Il protocollo emergenza. Ecco cosa prevede l'autobus. E' precipitato dal cavalcavia Vempa a Mestre. Non. E' ancora chiara la dinamica dell'incidente. Potrebbe trattarsi un malore del conducente nello. Schianto oppure di una manovra sbagliata in un punto dove erano in corso i lavori rifacimento del. Cavalcavia. Gli investigatori sono al lavoro per capire le cause. La polizia stradale sta effettuando i rilievi c'è da verificare la traiettoria della caduta. Lo stato del manto stradale. Non sembrano esserci segni di frenata sull'asfalto. E per ora la malattia sembra l'unica spiegazione di questa tragedia. 6 e 46 colleghi dell'autista sotto shock. Era un esperto. I colleghi lo definiscono un autista esperto. Che opera nel settore da 7 anni. Sono tanti i messaggi che in queste ore stanno comparendo online per ricordare Alberto Rizzotto. Il 40enne originario di Conegliano ma residente a Tezze sul Brenta che era alla guida del Pullman. Precipitato ieri sera a Mestre. Un incidente costò la vita a 21 persone. Così orgogliosa del tuo lavoro che dovevi portarci tutti sul tuo autobus alla festa di classe. Le parole di Laura. Rizzotto era un dipendente della Martinibus. Che aveva noleggiato il veicolo alla società alla linea con la quale aveva un contratto per il. Trasporto di turisti a Venezia. 6 e 20 Pullman rimosso da sotto il cavalcavia. Il centro coordinamento soccorsi ha informato che alle. 5 di questa mattina sono state completate le operazioni di rimozione della carcassa dell'autobus da. Sotto il cavalcavia. Lo riferisce il comune di Venezia in un post pubblicato sul social X. La strada sulla rampa Rizzar di direzione Marghera è ancora interrotta per consentire la messa in. Sicurezza della zona. Si legge nel post 1 e 41 i soccorritori. Un dramma di giovani. L'impressione visiva. Dopo la rimozione dei corpi. È che siamo di fronte ad una tragedia di giovani. Se non giovanissimi. Tranne qualche adulto. A parlare è uno dei capi dei soccorritori. Ancora sul posto dopo lo schianto dell'autobus a Mestre. Il supporto non è stato ancora rimosso perché deve raffreddar.